Siamo con il sindaco di Castelmola Orlando Russo, il 30 luglio una bella manifestazione che si svolgerà a Castelmola. Di che cosa si tratta sindaco? Intanto diciamo che è una delle manifestazioni che coinvolgiamo le strutture o gli operatori siciliani. Ci saranno quasi tutte le cantine della provincia di Messina e Catania che esporranno i propri prodotti e porteranno l'assaggio, non hanno un interesse di vendita, hanno un interesse di veicolare quelli che sono i prodotti siciliani e in particolare i prodotti delle cantine siciliane della nostra provincia Catania e Messina. Quando inizierà la manifestazione? Inizierà alle 18 per tenere alle 24. Quindi grande attesa anche dal punto di vista turistico per questa iniziativa del gusto? Ormai è il terzo anno, ogni anno è stato sempre un crescendo delle cose. Siamo convinti che quest'anno sarà un ulteriore crescendo di quella che è la manifestazione.